Buonasera, benvenuto Riccardo Fraccaro, ministro per i rapporti col Parlamento e per la democrazia diretta. Buonasera, bentornata Marianna Frina, giornalista del settimanale Oggi. Buonasera, bentornato Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Allora, con la nuova scossa di terremoto giudiziario per i 5 Stelle si riapre il problema della sopravvivenza della Giunta Raggi. Il nuovo indagato per corruzione, Frongia, che si dice però sicuro di essere archiviato molto presto, è un fedelissimo della Sindaca di Roma. Ci sono nuove scosse di questo terremoto giudiziario che ha coinvolto il Movimento 5 Stelle, anche oggi a carico del fedelissimo della Sindaca di Roma Raggi, Frongia. E' stato indagato per corruzione, anche se lui si dice sicuro di essere archiviato in tempi molto rapidi. A questo punto la Sindaca di Roma Raggi gode sempre della vostra fiducia? Ma fatti i cazzi tua! Non abbiamo motivo per togliere la fiducia politica ovviamente a Virginia, anche perché l'impegno che ci sta mettendo per risolvere i problemi in una città così difficile, io lo conosco bene, l'ho visto di persona, quindi assolutamente sì, ha salvato, ha attaccato con un miliardo e mezzo di debito, uno comune che ha 13 miliardi di debito pubblico generale, ha scoperto migliaia di utenze fantasma che adesso iniziano a pagare, ma come mai mi scusami? Quindi ha fatto un grande lavoro, quello che sta succedendo è estremamente grave e reagiamo subito, come sempre nel Movimento 5 Stelle. Cioè quindi anche Frongia dopo De Vita viene escluso? Dopo le notizie su De Vita sono gravissime, quindi abbiamo provveduto immediatamente a esperlo dal Movimento 5 Stelle, su Frongia abbiamo letto quello che era disponibile leggere, credo che non ci siano notizie gravi nei suoi confronti, quindi staremo a vedere nelle prossime ore e ci prendiamo un po' più tempo per valutare. Noi abbiamo un codice etico molto rigoroso, dopo la sentenza di primo grado per reati come questi, devi uscire automaticamente dal Movimento Politico e ti devi dimettere. Prima c'è la valutazione politica perché ricordo che la politica non è tenuta necessariamente ad aspettare la magistratura, si deve assumere la responsabilità anche all'interno del proprio movimento in questo caso. Marco Travaglio, tu hai capito che cosa sta succedendo al Comune di Roma e la posizione del Movimento 5 Stelle che ci è stata illustrata dal Ministro Fraccaro è chiara? Su Frongia non c'è assolutamente niente, non confondiamo le cose gravi con le cavolate. Frongia è stato iscritto perché Parnasi ha detto di avergli un giorno chiesto il nome di una giornalista perché voleva implementare il suo ufficio marketing e gli ha chiesto se conoscesse qualcuno. Tratto, gli ha detto un nome e poi Parnasi non l'ha manco assunta. Se fosse corruzione saremmo tutti corrotti, io mi autodenuncio. Mi è capitato spesso che mi chiedessero se conoscevo dei giornalisti bravi e di averli segnalati, quindi almeno corruzione fra privati dovrebbe essere. Credo che sia una sciocchezza che verrà presto archiviata e ci mancherebbe altro. Il caso grave è quello di ieri, non c'entra nulla con il caso Frongia che non è nemmeno un caso, è il caso di una persona che se è vero quello che abbiamo letto si è fatta promettere dei soldi da mettere da parte in attesa che scadesse il suo secondo mandato per garantirsi una serena non vecchiaia perché non è venuto. Scusami, ricordo solo Marco il caso dell'arresto di De Vito per corruzione, lui era il presidente del Consiglio Comunale di Roma. E sti ragazzi? Scusa. Scusa un cazzo. È un fatto grave sia perché è il primo esponente dirigente iscritto al Movimento 5 Stelle arrestato per corruzione in dieci anni di storia, quindi inevitabilmente fa notizia, sia perché ovviamente sta in un posto che è abituato a vedere bufere giudiziarie di ogni genere, in un posto dove era stata promessa onestà anche dalle labbra dello stesso signore che ieri è finito in carcere. Per fortuna non è un fatto che ha intaccato atti della Giunta perché i presidenti dei consigli comunali, fortunatamente in questo caso almeno fortunatamente, non hanno poteri decisionali in tema amministrativo e quindi non sono assessori. E dato che il delito era notoriamente ostile alla Sindaca e ostile ai fedelissimi della Sindaca, credo che si parlassero giusto per i loro doveri istituzionali, quindi non aveva grandi capacità e possibilità di penetrazione e di prendere le decisioni. I dossier dei quali si parla non erano nelle mani del Presidente del Consiglio Comunale, erano nelle mani della Sindaca, del Vice Sindaco Bergamo e dell'assessore all'urbanistica Montuori. Che non sono indagati. Mariana Aprile, noi ci ricordiamo però a Roma quando ebbe dei problemi l'allora Sindaco del PD Marino e loro chiesero subito le dimissioni, quindi bisognerebbe chiedere le dimissioni, dovrebbe dimettersi la Sindaca o no? Ma ricaccia il 10! Tra l'altro sedevano in Consiglio Comunale proprio Frongia, la Raggi. Ma io credo che... A parte invertite il Movimento 5 Stelle avrebbe chiesto le dimissioni del Sindaco molto prima. Aveva nel 6 gennaio! Al primo morto per le radici esposte sulle strade di Roma. Io credo che ad accomunare l'esperienza comunale, dell'amministrazione comunale e quella nazionale del Movimento in questo periodo sia la scoperta della complessità e la perdita di una certa verginità che veniva portata a bandiera per segnare una differenza tra loro e gli altri. Questa differenza alla fine si scopre che se c'è non è così marcata e il governare non è così semplice come sembra dall'opposizione. È molto più complesso selezionare la classe dirigente, è più complesso arruolare nel proprio partito gente che sia in grado di sostenerne i principi. Ed è complesso anche mantenerli questi principi, perché ieri abbiamo assistito a qualcosa che se io fossi stato un elettore dei 5 Stelle avrei visto con grande sorpresa e anche forse con grande sospetto. Ma che cazzo stai a dire? Ieri il capo politico del Movimento, Luigi Di Maio, ha deciso che in barba il regolamento interno non si sarebbe passati dai propri viri per valutare la posizione di De Vito ma ha deciso legittimamente di espellerlo del Movimento sulla base delle carte. Ora, tutto è legittimo. Ma se io fossi un elettore del Movimento a cui è stato detto che uno valeva uno, che tutte le decisioni sarebbero state prese insieme, che c'era un codice etico che sarebbe stato rispettato, avrei già stato tornato quando la sindacalaggia è stata indagata, ma avrei stato tornato ancora di più nel momento in cui De Vito viene espulso senza che la collegialità del Movimento fosse investita della decisione e della valutazione. Questo mi permette una precisazione. Prego. Innanzitutto non c'è stato nessun cambio di codice etico. C'è stato scritto un codice etico, proprio perché c'erano le accuse di interpretare delle regole del Movimento 5 Stelle, quindi abbiamo messo nero su bianco i nostri principi che abbiamo adottato fin dall'inizio. Io capisco tutte le osservazioni che sono state fatte, una cosa però non accetto, e non accetto io personalmente, quando succedono questi episodi si tende a cercare di far passare il messaggio, ecco anche il Movimento 5 Stelle è come gli altri. Io non mi rassegno questa cosa qui. Non siamo come gli altri, perché non c'è nessuna forza politica, che quando c'è una sentenza definitiva automaticamente manda via e caccia il proprio membro nel Movimento. Non c'è nessuna forza politica che valuta autonomamente senza segnare la registratura. No, ma le devo chiedere una cosa, perché è difficile dire che... Se fosse stata un'altra forza politica, mi scusi, sarebbe stato ancora levitato nel Movimento 5 Stelle. No, ma che non mi possa assegnare alla lotta contro la corruzione, che è un male di questo paese. E come gridavamo onestà quando eravamo in posizione, la gridiamo ancora con la stessa, nelle piazze, con la stessa autorevolezza, perché noi questo facciamo, lottiamo per avere un paese più onesto. E siamo ancora credibili nel Farno, perché applichiamo le regole. Solo ricordare i casi, diciamo, più eclatanti. I casi Marra, Lanzalone, Parnasi, Ora, De Vito... Ma questo mi... scusi, però, lei, non siamo così... Ma perché un amministratore... Non siamo così maturi da dire che nel Movimento 5 Stelle, con migliaia di iscritti e rappresentanti, non possa avere nessuno che si comporti male, che possa cedere alla tentazione della corruzione. Noi abbiamo sempre detto, i nostri elettori, i nostri attivisti, e quindi siamo diversi, per come reagiamo... E' la diversità nella reazione. Dieci anni fa avrebbe avuto qui Berlusconi, che si faceva le norme per salvarsi. Noi stiamo facendo le norme per mandarle in galera i corrotti. E' la normalità, ma in questo paese non si conosceva la normalità. E Marco Travaglio di più. Questa differenza la rivendico anche oggi a testa alta, perché c'è e rimarrà sempre nel Movimento 5 Stelle. Alla fine non funzionano abbastanza, o semplicemente può succedere, come ha detto il Ministro Faccaro, che in un partito, in un Movimento, ci sia qualcuno che si comporta male. Certo, questo lo hanno sempre detto anche gli altri partiti, che hanno avuto problemi prima... No! No! Ci sono stati partiti che non hanno tenuto dentro i corrotti. Non devi dire cazzate! Ma, dunque, i problemi sono vari. Se vogliamo dire che i 5 Stelle sono come gli altri, solo perché hanno preso il loro primo dirigente per corruzione, mi sembra un po' poco. Credo che debbano impegnarsi allo spasimo nei prossimi anni per riuscire a eguagliare i record di Forza Italia, del PD, eccetera, eccetera. Perché uno, francamente, non basta. Gli altri che hai citato non sono 5 Stelle, sono un dirigente comunale che era lì da vent'anni, talato è stato condannato per fatti relativi all'epoca di Alemanno. Parlo di Marra. Parnasi non è mica un 5 Stelle, è un costruttore, quindi non c'entra niente. Tutte le persone che hanno lavorato con questa giunta di Roma vogliamo... No, Parnasi è un costruttore che lavora a Roma, non è che lavora con questa giunta. Vuole fare uno stadio e, tra l'altro, la delibera per fare quello stadio gliel'ha firmata Marino. Mica gliel'ha firmata la Raggi. La Raggi gli ha tagliato le cubature del 50% a Parnasi. Tant'è che Parnasi è a processo, insieme a Lanzalone, insieme a due esponenti di Forza Italia e a un esponente del PD. Che figura di merda! Non c'è nessun politico dei 5 Stelle processato per il caso Parnasi. Se vogliamo parlare seriamente di selezione di classe dirigente, i 5 Stelle ne hanno di strada da fare. E io mi meraviglio che siano ancora ridotti alle autocandidature, perché dalle autocandidature, dal voto online, è come il terno all'otto. Può uscire fuori una figura felice e può uscire un cialtrone, può uscire un personaggio senza arte né parte, può uscire anche uno che magari si è comportato bene fino a qualche tempo fa e poi, a un certo punto, sul finire del suo secondo mandato, decide di mettere dei soldi da parte, come credo che sia avvenuto nel caso di De Vito. E' chiaro che non c'è un sistema che impedisce 100% il rischio che qualcuno si faccia corrompere. L'unico strumento per scoprire se qualcuno si sta facendo corrompere è quello di intercettare, anche per i reati che oggi non lo consentono, come finanziamenti leciti o falsi bilancio e l'abuso d'ufficio, e mettere in giro gli agenti infiltrati, per andare a testare come si fa, grazie a questa legge anticorruzione, che è stata appena approvata, proprio grazie al Ministro Buonafede, per mandare ad assaggiare l'onorabilità e la permeabilità degli ambienti amministrativi, perché altrimenti se uno si fa i fatti suoi con due o tre costruttori, o è scemo e parla a telefono e infatti l'hanno beccato, oppure se no non lo becchi mai. Chissà quanti ce ne sono che non vengono beccati. Però il problema della selezione delle classi dirigenti riguarda i 5 Stelle perché loro dovrebbero essere meglio degli altri, visto che si erano proposti meglio degli altri, ma riguarda tutti. Io penso che Walter Veltroni sia una persona per bene e che sia stato un buon sindaco, ma Odeven che nella stanza accanto alla sua rubava con mafia capitale, non ce l'ho mica messo io, e non ce l'ho mica lasciato io, e non ce l'ho mica promosso io, io ce l'ho promosso Walter Veltroni. Quindi la selezione delle classi dirigenti non può essere affidata a dire tu sei peggio di me, se la devono porre tutti, altrimenti prima o poi finiranno tutti dentro. Ci sono tanti politici che sono persone per bene, sia oggi che ieri che l'altro ieri. Il nostro codice etico è molto chiaro, c'è una regola precisa, automatica, e prima una valutazione politica, ora ci sommiamo noi la responsabilità di decidere in base a quello che leggiamo dagli atti, cosa che non ho visto fare in altri partiti, tra l'altro ce l'aveva insegnato qualcuno di molto più autorevole, che forse non ha neanche il diritto di citare per quanto autorevole era, che è un certo Borsellino. I partiti, i politici si devono prendere la responsabilità, non devono aspettare la magistratura per agire. Ed è quello che vogliamo fare, anche perché noi siamo nati per reazione contro una politica che non ci piaceva perché non agiva al proprio interno per combattere certi fenomeni come la corruzione. E queste regole che ci siamo date servono proprio a questo, possono piacere o non piacere. Gli altri non ce l'hanno un codice etico. Mi chiedo però che senza obbiettere da parte del capo politico fare degli annunci che poi invece devono passare su cose che devono passare altri vari. Si ha preso la responsabilità politica di dire la sua posizione politica. Poi noi del collegio dei propri diri decidiamo in maniera autonoma. Trovo offensivo utilizzare la parola click perché tra l'altro significa semplicemente utilizzare uno strumento che è la rete, internet, il digitale che utilizzano, noi utilizziamo sempre. È come se in Parlamento chiamassimo politici solamente scaccia bottoni perché per votare cliccano un bottone. La forma è che grazie a questo metodo noi siamo la forza politica in Parlamento con il più alto numero di donne che per me è importante e anche di laureati e di persone con master. Quindi dal punto di vista della forma forse la classe dirigente migliore è un metodo abbastanza trasparente secondo lei? Assolutamente trasparente molto di più di quello che abbiamo del politico che decide del capo bastone che decide per tutti con metodi poco chiari dentro una stanza chiusa. Ma ci sono partiti che hanno fatto le primarie con i gazebo dove la gente ha preso e hanno fatto votare per esempio. Perché il Partito Democratico sono trasparenti le primarie del PD. abbiamo visto delle scene veramente gravi anche da voi ci sono delle scene insomma diciamo che le criticità sul vostro sistema di selezione ogni volta vengono evidenziate ma comunque lei dice che va bene così. Io sto dicendo un'altra cosa in realtà che non abbiamo mai utilizzato solamente la rete per il Movimento 5 sia per selezionare la classe dirigente sia per organizzare il movimento. Abbiamo sempre affiancato la rete come strumento libero non a pagamento che potevano in quel momento e anche oggi utilizzare visto che non prendiamo finanziamento pubblico ai partiti che il PD vuole rimettere. Ciò che è più naturale per un politico è quello di trovarsi fisicamente. I meetup erano sia rete sia incontri sui territori. Essendo un movimento cambiamo sempre. È bello essere un movimento si può cambiare sempre appunto come dice lei. Marco Travaglio la senatrice Nunez dice che i 5 Stelle stanno tradendo il patto con gli elettori e che stanno cedendo alla Lega la guida del governo. Ma che cazzo stai dicendo? Ha ragione. Secondo te perché continuano a perdere consensi nei sondaggi di 5 Stelle? Ma fatti cazzi tua! Sul fatto che perdano consensi per avere ceduto la guida a Salvini non credo che abbiano tradito il patto con gli elettori perché ricordo che in campagna elettorale i 5 Stelle dissero molto chiaramente oggi date il 51% oppure faremo alleanze con chi ci sta. Dato che con Forza Italia loro non vogliono parlare e secondo me fanno molto bene. Restavano il PD e la Lega il PD non ha voluto parlargli non si sapeva nemmeno con chi parlare all'epoca adesso almeno c'è un segretario e l'unico con cui riuscirono a parlare e a fare un contratto fu la Lega. Io non sono d'accordo ne abbiamo parlato tante volte abbiamo anche animatamente discusso con altri ospiti che la pensano diversamente che i 5 Stelle abbiano dato il comando del governo alla Lega tutti i provvedimenti più importanti che sono stati presi in questi mesi sono targati 5 Stelle la Lega non ha battuto praticamente chiodo se escludiamo l'inutile decreto sicurezza è lo stra-inutile legge sulla illegittima difesa come la chiamo io perché quella legittima c'era già per il resto l'anticorruzione perché non sono capaci a comunicare le cose che fanno perché Salvini ha 25 anni di esperienza manovriera politica perché fa politica da prima che Di Maio nascesse no forse Di Maio aveva 5 anni quando Salvini è entrato in politica e quindi diciamo che ha molta più esperienza di loro e poi soprattutto per la ragione che più cose fai più dividi l'elettorato ci sono norme molto divisive tra quelle che hanno fatto approvare secondo me alcune sono molto positive come il decreto dignità il reddito di cittadinanza ma chi non prende il reddito di cittadinanza non ama il reddito di cittadinanza il reddito di cittadinanza lo ama soltanto chi lo prende chi non lo prende lo paga quindi quando fai le cose dividi ma la domanda è puoi governare con i sondaggi sottomano se governi con i sondaggi sottomano tu non fai assolutamente niente se non campagna elettorale cioè fai come Salvini quanto dura questa bolla del non fare nulla e del promettere tutto prima o poi scoppia quella bolla l'abbiamo visto con Renzi il motivo vero per cui secondo me è un'opinione c'è questa emorragia è che sembrate veramente a piattini su Salvini io non sono di quelli che ritiene che i cittadini se non ti votano sbagliano quando sono entrato in Parlamento sei anni fa quasi ormai cinque anni nove mesi e io mi ricordo il primo anno del Movimento 5 Stelle all'opposizione che era la prima volta che andavamo al Parlamento era così lavoravamo tanto facevamo tante cose buone ma non era ancora percepito un miglioramento della qualità della vita degli italiani grazie anche a noi con il tempo con il nostro miglioramento della capacità anche di comunicare e di far percepire quello che stavamo facendo allora siamo tornati e abbiamo superato i livelli non state sbagliando adesso che arriva la primavera inizieranno a percepirsi tutte le cose buone che abbiamo fatto e credo che anche questo racconto di noi succubi della Lega degli scontri che non facciamo niente cambierà radicalmente concretamente come è successo cinque anni fa stavo guardando sull'home page del Corriere della Sera lo scambio di battute tra Fraccaro e Lilli Gruber l'ex eurodeputata del Partito Democratico Lady Bilderberg insomma chiamatela come volete e più Fraccaro cercava di dire che il movimento è diverso dagli altri e spiegava il perché ecco che Lady Bilderberg rintuzzava dicendo ma no avete i corrotti in casa avete i corrotti in casa come la mettiamo eh la mettiamo facile cara Lilli Gruber il corrotto nel momento in cui ancora prima che una sentenza lo dichiari corrotto non è già più nella nostra casa vedete io sto lasciando la Basilicata dove sono venuto a sostenere il nostro candidato presidente Antonio Mattia è proprio in Basilicata un ex presidente finito agli arresti domiciliari che si chiama Pittella fratello del Pittella collega al Senato bene è ancora dentro le liste che si richiamano al Partito Democratico e che sostengono il candidato presidente del centro-sinistra e quindi non è difficile capire le differenze noi ancora prima di una sentenza lo mettiamo fuori e quindi è un ex invece quegli altri lo tengono dentro e lo candidano ancora questa è la differenza fondamentale ma ovviamente l'ex europarlamentare del Partito Democratico questo non lo può vedere è